In questo numero di Freeson Dalla Tasmania l'eclettica Dr. Reed Mariella Nava presenta Tempo Mosso New Track Fattorie musicali incontra una De Rosa Fattorie musicali ha incontrato una De Rosa Napoletana di nascita ed internazionale per vocazione Questa la frase che risuona come un light motive in tutte le biografie e le recensioni che l'artista ha ricevuto finora ed ascoltando la sua musica tutti potranno constatare quanto questa affermazione calzi a pennello Concetta De Rosa, in arte una De Rosa, è un'artista partenopea e la sua musica appartiene al genere pop swing Il timbro caldo della sua voce colora di sensualità le sue interpretazioni e le sonorità pop dance che fanno da sfondo danno risalto a tutte le impercettibili sfumature Si definisce impulsiva, lunatica e complicata ma semplice quando si esprime con la sua musica L'artista è attualmente in promozione con Eclettica il suo album di debutto, le cui vendite serviranno a sostenere l'associazione Aiutare i Bambini Tutte le news e gli eventi di Una De Rosa sono disponibili nella sezione Artisti di Radio Star TV Io lo vivo, non lo sognio Io lo vivo, non lo sognio